Secondo le statistiche di YouTube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie Adesso non posso neanche più farmi una sega in tranquillità Devo prendere l'app delle poste italiane, mandare le notifiche Se sbaglio i codici per due volte porco dio Devo andare in posta a recuperarlo Quindi devo andare in posta tutto a rapato, tornare a casa, mettere i codici dello speed E poi finalmente posso farmi una sega Dopo sei ore che voglio farmi sta sega e sborrare Ma tu che sei un professore, ma il settantenne, il settantenne porca madonna Vuole farsi l'ultima sega, una sega al mese vuole farsi su Pornhub Arriva su Pornhub Se posso dire come vai, cosa è successo? Ha fatto fare un video su Youtube dove diceva che era stato con lei Ha fatto un video su Youtube? Ha detto a tutti che avete scopato? Sì, per hype Ah per hype Ma in un video Youtube ha detto che hanno avuto un rapporto sessuale? Sì Veramente? Sì Ma non era risaputo, cioè non lo sapevano già tutti che avevano fatto una relazione No, no, non lo so, non lo so Se magari lui non fosse stato da solo e magari sarebbe rimasto chiuso, fosse rimasto chiuso da dentro Cioè una persona pazza, magari col cervello, magari ha pure tutto, ma non so se fosse, che ne so, capito che vuol dire? Sì, ha rapato, o ha pure fatto Ha fatto un momento inizio di ira, che ne so, e potrebbe finire in modo diverso No, no, certo E allora io ho una domanda Ti è capitato invece che in alcuni incontri magari, allora, una cosa così estrema, una molestia del genere, ti è mai capitata? Sì Ah, mi è tornato al discorso di Favij Sai quanti hater di Favij negli anni, soprattutto negli anni in cui era nel momento Prime, aveva detto Eh, questo si fa ai milioni e sta davanti a una webcam a urlare davanti ai videogiochi, lo potrei fare anch'io La solita frase è, fallo tu, ma tanto tu non ci riusciresti Perché, diciamo che, ovviamente, ci vuole anche una piccola percentuale di culo Però ci sono vari fattori nel seguire un progetto E forse la cosa a cui si riferiva Alessandro C'è di Serpi, questo è per te Baby Tra Devo andare con me? In piedi? Così? No Vabbè, adesso parte comunque Mi scaldo un attimo Let's go, man Mami, te siento, regonimo, donde estas? Te quiero chingar, te voy a atrasar Deja de llevar pa' que celula Si estas conmigo no te va a pasar na' Solo dejaste llevar Ven atenta y va a jugar Yo quiero contigo y tu quieres conmigo Dime si ser, volte pa' mi Follow me, tu eres life for me Se tu graffi, da te vi ho lì Ma da me tu vieni Poi devi andare a jekera rimo del vinto Come cosa mangia se scavo Abba una baglia Sì, vieni prossimo Sì, vieni prossimo Sì, vieni qua È una marca abbastanza carina Ok, mamma mia Mi mancava l'autunno, diciamo Vabbè, allora, felpa Noti qualcosa in questa felpa? Sì, puzze, fa schifo e del viola di merda Guardate, c'è questo è il colletto No, però scusa, parentesi, scusa se ti interrompo Io ho bisogno di fumare, Cristo Dio Eh, cosa devo fare? Qualcuno ha una soluzione? Eh no, mi serve un robo per, tipo, delle chiavi Cioè, l'ho appena comprata, ce la devo distruggere Eh, mi dispiace, colpa mia Eh, no, allora No, no, qua ci sono due, ci va Ok, cosa vuol dire? Cos'è da chi? Donna C'è una ragazza a spettacolo Ah, ho l'ifazza Prima no Ale Ma sai chi è tanto Non sento e non vedo Che sto curioso da risentirlo in velo Ah, sì, lei fa spesso vedere Gialluchino Ma Gialluchino, ma sai che è... Ah, Newman Adams Newman Adams Eh, Newman Cazzo Newman Adams Sta facendo l'università a Madrid Il NEGRO Ciao Andrea Ciao Andrea, come stai? La cosa che mi ha sorpreso Su A È che lui La sua angoscia Era trovare un modo Per rifiutarlo È incredibile Paralossale In un mondo utopico Perfetto Paralossale Paralossale Infatti lui ha fatto Cioè, si è dovuto Ha detto Cioè, che è una roba Che non so Avrei mai capitato Di dover inventare una scusa Per risultare qualcuno Almeno se parliamo con una donna Ci dirà di sì Eh sì Però quanto pare le donne Cercano a volte Anche loro dei modi Quando invece Dovevi dirgli No, non me ne frega un cazzo Rimettiti via quel lombrico Cioè Nel senso Non poteva Grazie Chris Grazie mille Molto molto gentile Gesù Chris Ah no Oggi in realtà Affronteremo Un argomento molto importante Che ha toccato molto Max Ovvero Il fatto che Da quando No È una proposta ancora Che cazzo Che discutiamo a fare Che non passerà mai Nella vita Ma va bene Che cosa? Che è una proposta giusta Quella di mettere lo speed Per vedere i porno Giusto Ma non passerà mai È una stronzata Fuori dal mondo Che non passerà All'interno della Della comunità Perché è proprio La visione che Gli etero possono avere Di Grindr Cioè capito Tu Lo dai in mano A lui che l'ha mai usato Si trova Come dire Inondato di piselli Che però Quello non è Cioè quello Non so se fa parte Come dire Se fa parte del gioco Fa parte del gioco Fa parte dell'applicazione Quindi A quel punto È una cosa che Magari in un In un flirt Eterosessuale È assolutamente Guarda Ascolta Vuoi essere insultata Da me Come no Certo Ti posso capire Se tu vuoi essere insultata Da me Mi devi succhiare No 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 Aspetta Aspetta Un attimo Un attimo Ok Aspetta che mo Si bugga Stammerda 22 21 18 21 22 17 33 17 21 18 25 Non sto leggendo I 99 98 2 Mirko Alessandrini Mirko Alessandrini Mirko Alessandrini Mirko Alessandrini All'altro Vabbè Adesso inizia Però ok Quindi più o meno Sono in target Secondo me Io l'ho raccontato Solo a gente Che meno della mia età Quindi sono dai 20 Un po' dalla live Se pensi che Vaz sia un coglione Nooo Così no Così no Così no Cosa ha fatto Vazzo 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 No lo so Ti conosco Cioè sei uno dei pochi della villa Che ho seguito Perfetto Perfetto Ma comunque raga Non so Non so perché ce l'abbia con me Allora io devo dire una cosa No però te posso dire una cosa Ciao a tutti i ragazzi Oh no no Porca troia no No Dai no Ma sei un idiota No Io penso che purtroppo ci sarà anche gente Che magari in modo totalmente sbagliato Sfrutterà questa cosa per Fare delle generalizzazioni che non hanno senso Cioè nel senso che Io penso che Questo non debba screditare Né la comunità LGBTQ+, Né quelli che utilizzano Grindr Ma solo Mettere in In guardia Del fatto che Esistono queste situazioni E soprattutto come ha detto Ale Che penso che sia uno dei punti chiave Eccolo eccola Eccola Qua è la fine E' finita Eccola Porca Mamma mia Porco Due È una presa Spettacolo Porca Troia E mica è dentro di lei Dov'è Il grino non riesce più Se l'ha mangiato Porca puttana No no Quindi Complimenti Grazie Figura Bene Ok ok Allora la chat pensa a 2 milioni di punti Ah beh in realtà è 50 e 50 Pochissimo Per pochissimo Sì Sono 3 milioni su Sì Quanto e 50 Ok Secondo me è vera Secondo me è vera Aspetta a dirla Aspetta a dirla È la prima frase È la prima storia che ti viene in mente Mi sembra sta nuda in spiaggia No ma La prima Auguri a Suarez Che è il suo compleanno oggi Suarez Auguri Luis Luis Suarez Ah ma non Suarez lui No Auguri Suarez Auguri Suarez Grazie mille per esserti abbonato Abbonato? Sicuramente Ok Anche perché sennò è in tavoli E fare l'imprevenza Quindi ci sto dedicando Tutto quanto è lo stesso Letteralmente In qualsiasi occasione Ho avuto un'opportunità di In che modo ci sta provando In questo momento? Cioè prima dello show A confronto Ho voluto sempre Mettere avanti Questo sogno Quindi nel senso Se dovevo scegliere E qui metto una parentesi Tra la scuola E questo sogno